Sapete cos'è una gara Iron Man? Ve lo spiego subito, innanzitutto lui non c'entra nulla. Poi sui kart le Iron sono gare di durata media, quindi tra la mezz'ora e l'ora, in cui ogni pilota è obbligato a fare una sosta che comprende anche il cambio del mezzo. È un format molto interessante perché va a testare le abilità di guida di un pilota che deve essere veloce per tanti giri e allo stesso tempo mette alla prova anche la strategia perché fermarsi al momento giusto è fondamentale. La sosta ti permette infatti di toglierti da dei duelli scomodi oppure di tenere per tanti giri un kart con cui ti trovi bene. Il tutto però deve essere gestito alla perfezione dal pilota. E tu, hai mai corso un Iron Man?